La traduzione letteraria è una traduzione molto particolare. Generalmente la gente non distingue tra una traduzione normale e la traduzione letteraria. Uno non deve neanche pensare che la traduzione letteraria sia più difficile, più sofisticata. È una cosa molto diversa perché la traduzione letteraria deve riuscire a restituire una cosa che è quasi irrestituibile e quindi la traduzione letteraria è una sfida all'infattibile. La cosa che la traduzione letteraria vuole tradurre è quello che è intraducibile. Questa è la vera traduzione letteraria. Contemporaneamente proprio per questo ha anche l'enorme vantaggio che il traduttore non è un traduttore. La traduzione letteraria è la cosa più lontana che ci sia dalla traduzione automatica o da un dispositivo che trasporta da una lingua all'altra delle parole. È una reinterpretazione di un testo nato in un mondo, in un ambito che è una lingua, in un altro mondo, in un altro ambito che è costituito da un'altra lingua. Quindi è un'attività creativa e la sua bellezza e il suo fascino è tutta qua. Se si legge una grande opera letteraria tradotta male, uno se ha molto occhio se ne rende conto subito, se non ha molto occhio pensa che il libro sia brutto. Se invece legge una traduzione letteraria fatta bene, rivive quello che l'autore ha voluto dare e fare nella sua stesura originaria dell'opera. Le giornate della traduzione letteraria sono una manifestazione, tra le molte che ci sono in Italia, sui libri, sul mondo dei libri, festival e quant'altro, molto particolare e anche molto diversa da tutte le altre che ci sono. La diversità consiste nel fatto che i traduttori letterari sono una specie umana molto particolare, sono delle persone molto appassionate a quello che fanno, che per farlo sono disposte a subire una vita non sempre allegra, pochissimo allegra dal punto di vista economico e finanziario, ma lo fanno perché amano quello che fanno. Hanno poche possibilità i traduttori di vedersi tra di loro, di radunarsi, di essere insieme, mentre invece altri protagonisti del mondo dei libri lo hanno con molto più facilità, gli autori, gli editori, i librai, altri pezzi della filiera del libro sono molto più abituati a incontrarsi, invece i traduttori sono generalmente solitari, se ne stanno per conto loro, anche il loro lavoro è un lavoro fortemente solitario, perché è un lavoro tu per tu con il testo che devono tradurre, che in generale è un testo difficile da tradurre, non è gente che può lavorare a cottimo e quindi hanno questa esistenza molto solitaria, molto chiusa e quando si trovano tutti insieme, molti insieme come si trovano in queste giornate della traduzione letteraria di Urbino, sono straordinariamente aperti, disponibili e simpatici, mentre quasi tutti gli altri componenti della filiera del libro visti direttamente personalmente non sono questo granché di simpatia, sono anche un po' variamente arroganti, gli autori sono giustamente sospettosi di tutti gli altri autori, gli editori sono dei concorrenti e così via, i traduttori sono delle persone invece molto aperte e molto piacevoli, parlare con loro è un'esperienza bellissima e il fatto che sia stato istituito da una decina d'anni questa occasione che si ripete ogni anno è una delle cose migliori che il mondo del libro in Italia si è riuscito a fare. Grazie. 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 Grazie.